A volte è stonata, sfidare le leggi della fisica. Se davvero mi ami, lasciami cantare. Candidato a quattro Golden Globes. Potevamo essere una famiglia. Siamo una famiglia. Cantare il suo sogno e io glielo regalerò. Tra cui miglior film e miglior attrice protagonista. La regista di Pilomena e The Queen. Vediamo una vita intera per questo momento. Meryl Streep è... Florence. A Natale, al cinema. A Natale, al cinema.